Dunque passiamo ai dati sulla Liguria perché come sempre nella consueta diretta social il governatore Ligure Giovanni Toti ha informato la popolazione con il bollettino sanitario. Contagio in Liguria che continua a crescere con 1693 persone positive, 215 in più di ieri, ma ha detto abbiamo un solo ricoverato in più rispetto alla giornata precedente, sono aumentati i guariti, 13 in più di ieri. Purtroppo aumentano i morti, 41 in un giorno e ha detto il Presidente Toti questo ci addolora. La curva di degenza sta però lievemente frettendo come ci aspettavamo, questo dato non può essere che positivo, un primo segno di inversione di tendenza che deve essere confermato nei prossimi giorni. E questo sicuramente è un dato in linea diciamo così in trend ecco con quanto riguarda la statistica nazionale sono ore cruciali queste in Italia però diciamolo la pandemia nel resto del mondo continua a crescere.